Buongiorno, Marco Baututo Sport, le volevo chiedere cosa le è piaciuto della Juventus e cosa non le è piaciuto. Grazie. Importante, in un momento decisivo del campionato, soprattutto dopo le vittorie di Inter Mila ieri, si è alzata notevolmente la quota Champions. Il ragazzo è andato a una bella risposta, non era semplice perché poi a Bergamo, vincere a Bergamo, si è sempre partita combattuta, l'Atalanta è una scuola fisica che ti salta addosso. E hanno fatto veramente una bella partita. Ma no, non è piaciuto. Diciamo che dopo un inizio buono abbiamo verticalizzato troppo con giocate sugli uomini di spalle, abbiamo perso qualche palla di troppo e lì l'Atalanta ha preso campo. Buongiorno, Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Oggi abbiamo visto Pogba in campo per una mezz'ora buona, abbiamo visto un po' Lampi di vero Pogba. Può essere l'uomo decisivo per questo finale di stagione? Oggi sta un po' meglio e l'altro giorno ha fatto un buon allenamento, ha fatto una partita a tutto campo dove ha lavorato, ha fatto bene. Oggi ha fatto più minutaggio, è normale che Debba ancora cresce. Ci ho parlato anche ieri, ho detto che è importante che da qui alla fine del campionato cresca il minutaggio perché diventa un giocatore importante. Poi le partite, giochiandole in 15, quelli che entrano, e oggi i cambi hanno deciso perché Chiesa è entrato bene, Vlauvi è entrato bene, Pogba è entrato bene, Costi è entrato bene, sono molto importanti. Ora cominciamo a stare un po' tutti bene, quindi direi che è importante per questo finale di stagione. Buon pomeriggio, Patania Correa dello Sport, due curiosità. La prima, a un certo punto Pogba è entrato bene e l'ha ripreso per aver tirato via una palla che forse andava gestita o ce l'aveva con tutta la squadra che non era uscita. E poi quando c'è stato il rischio della sospensione per pochi secondi, mi sembra che lei preferisse che il gioco continuasse perché poi magari se si allunga la partita diventa ovviamente dal punto di vista della concretezza, non per quello che stava succedendo fuori. No, ma anche io credo che purtroppo questi fatti che capitano, che siano neri, bianchi, gialli, sono situazioni che vanno combattute. La cosa che secondo me bisogna essere bravi noi è far finta di niente, ignorare e poi dopo chi di dovere provvederà a fare, come l'avvento si è fatto che ha preso e ha dato due da Aspo più 171 che le ha stati presi dopo. Però bisogna avere la forza di ignorare perché solo ignorando le cose si riesce a zittire tutti. Per quanto riguarda anche il momento di Pobba, uno come lui non può e non deve perdere quella palla lì, ma lui lo sa. Buongiorno mister, complimenti innanzitutto a Filippo Maggi Calciotalanta. Le chiedo a proposito di healing, il percorso di questo ragazzo a novembre l'ha fatto molto bene, poi dopo il mondiale ha fatto un po' di anticamera anche per il grave infortunio che aveva avuto. Ha detto recentemente di averlo visto più centrato, come lo vede nell'almento e che potenzialità, che margini ha secondo lei. Grazie mille. È un ragazzo che come tutti i ragazzi hanno momenti up e momenti down. Lui purtroppo il momento down l'ha avuto quando si è fatto male a Lecce, che ci ha messo un po' di tempo per rientrare. Quando è rientrato non era centrato, aveva bisogno di riprendere. Era già un 15 giorni che lo vedevo un po' meglio e oggi ho pensato che fosse stata una partita giusta per lui, visto che l'Atalanta è una squadra che marca uomo, lui è bravo nell'uno contro uno, entra dentro il campo. Mi serviva un giocatore un pochino più fantasioso rispetto a Kostic, un giocatore che come tutti i giovani può e deve migliorare. Può un ragazzo intelligente, un ragazzo serio. Buongiorno. Come ha visto l'Atalanta, a questo punto come vede la Corsa Champions dell'Atalanta dopo questo risultato? La Corsa Champions, a parte il nostro risultato, con i risultati di Inter-Mila ieri, si è notevolmente alzata, perché comunque potenzialmente l'Inter può arrivare a 75, perché ha 63 punti, credo, quindi ne mancano 4. Il Milan è a 61 e può arrivare a 73, e quindi la Corsa Champions ora momentaneamente è a 74, però il Milan deve vincere tutte. Però nel calcio ci sta tutto. L'Atalanta è una squadra forte, è una squadra fisica. Vincere a Bergamo è sempre complicato, perché comunque sono forti sugli angoli, quando ti prestano ti portano tanta gente dentro l'aria, però la squadra ha difeso bene. Oggi i difensori e tutta la squadra veramente hanno fatto un'ottima partita. Buona giornata.